Sfere Basta, Manakesh, 15 piani, venerdì 12 gennaio, ben ritrovati a tutti, siamo qui su Crystal Radio per raccontarvi un po' tutto quello che succede nella nostra città, ve l'abbiamo detto, poi dopo adesso andremo a sentire anche il traffico, capire se già dovete incominciare ad urlare fuori dal vostro finisario, no non fatelo dai, cercate be polite, cercate di essere il più possibile, keep calm anche nel traffico milanese, anche se non è facile. Comunque dicevo, 12 gennaio, buongiorno intanto a Alberto che ci scrive al 3317853555, buongiorno e buon weekend a tutti i cristallini in ascolto, un saluto particolare a Fabio, grazie mille, che ci tiene compagnia tutte le mattine, sempre qui presente, ma posso dire che tutto questo riesco a farlo anche perché c'è la bravissima e competitissima, competitissima no, competente scusa, Viola al di là del vetro, quindi grazie Viola, grazie a tutta la redazione, di Milano News che tutta la settimana lavora questa trasmissione, poi io insomma rovino tutto ogni mattina con voi qui all'ascolto, no, cerchiamo sempre di darvi un po' di notizie e soprattutto stiamo cercando di portare sempre più gente in trasmissione, quindi oggi avremo due ospiti, poi avremo tutta la rubrica di Ribi, rimanete stay tuned, rimanete collegati con noi. Oggi è il 12 dicembre, il 12 gennaio dicevo appunto, nel 1976 muore Agatha Christie, eh sì, oggi è il giorno in cui la regina, diciamo, dei libri gialli, con lei che ci ha fatto tremare di paura, o meglio di curiosità, più di paura, perché nei suoi libri non sono tanto paurosi quanto proprio non riesci a staccarti perché sei curioso di sapere alla fine chi è, anzi, la cosa interessante è che spesso mi diri, ma ho già capito chi è, ho già capito chi è, e invece non hai capito assolutamente niente. Muore nel 1976, Agatha Christie, appunto, ha 85 anni, pensate, lei è nata nel 1890, è una ragazza dell'Ottocento, capito? Come, come chi? Come la mia nonna Erminia, eh sì, la mia bisnonna, la nonna Erminia, detta il generale, così veniva chiamata, pensate quanto era affabile la nonna Erminia, anche lei era del 1890. Agatha Christie muore nel 1976, appunto, ha l'età di 85 anni, lei è nata a settembre, è nata il 15 settembre, muore invece il 12 gennaio del 1976, appunto, ha l'età di 85 anni, dopo averci lasciato una serie innumerevoli di grandissimi capolavori della letteratura. Nonna Erminia, invece, muore nell'87, quindi ha 97 anni quasi, ma ci lascia una sequenza di botte date a tutti i nipoti e a tutti i figli, ma per crescerli, nel senso, erano quelle botte date con amore, diciamo, se possono esistere, erano altri tempi, davvero. 1890, ci pensate a una persona che nasce nel 1890 e arriva a campare fino agli anni 80 del secolo appena passato, diciamo, 1980-1890, cioè è una roba pazzesca, ci pensate, ha visto nascere qualsiasi cosa, adesso, senza pensare, ha visto gli albori, 87 c'erano già i computer, quindi pensate che roba, da una che è nata, che non c'era quasi neanche, anzi, non c'era la televisione, la radio c'era, ma era una roba, insomma, non così diffusa come adesso, non c'erano, c'erano, le automobili, sì, c'erano, ma insomma, cos'erano? Niente, no? Quindi pensate davvero, due guerre mondiali, di tutto di più, l'austerità, cioè capite che è una persona che nasce nel 1890, ma voi, quando negli anni 80 facevamo le targhe alterne, ma cosa poteva fregare lei delle targhe alterne, cioè, dopo tutto quello che aveva passato? Beh, io mi chiedo spesso come potrà essere il nostro mondo, noi nati nel, io sono nato nel 1980, penso, 90 anni dopo la mia bisnonna, 90 anni dopo la, come si chiama, Agatacristi, cioè quasi 100 anni dopo Agatacristi, e 90 anni dopo Agatacristi sono nato, penso, chissà cos'era, boh? Mai dire mai, Willy Peiote con la locura, mai dire mai, anche su cosa volete vedere in città, ad esempio, io ho degli eventi, adesso vediamo se li dice anche Eri B, io ce li ho degli eventi per stasera, però, anzi, per stasera e per domani, ma do la parola, e lo do con la sigla della sua rubrica a Eri B. Buongiorno, gli eventi della settimana a cui io, Eri B, non andrei, bentornati e buon anno. Buon anno a te Eri B, allora, vedi, torni anche con la sigla, sei contenta? Vi posso dire perché la scorsa settimana non c'ero? Sì, sentiamo. Non c'erano perché tutti gli eventi della scorsa settimana erano già eventi a cui io non sarei andata natalizi, quindi ho detto, no, senti, non voglio ammorbare la gente su questa cosa. Ok, e invece allora questa settimana, invece, dove non ci vuoi portare? Allora, 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 ho degli eventi che sono, questo fine settimana, magari sono gli stessi dove tu vorresti andare, chi può dirlo? Dubito. Inizio a dirtine uno, sabato 13 gennaio, cioè domani, al Live Music Club di Trezzo su Ladda. Grande live di Trezzo. Chi è che c'è? Chi potrebbe essere? Willy Peyote. No, no, c'è una roba che c'è sempre, quindi c'è l'ho toccato. La cover band di chi? No, non c'è una cover band, c'è Cristina D'Avena insieme ai Gen Boy. Io non so, raga, da quanti anni è che vanno avanti questi. Trapparissimi sempre lì. Sempre lì, ma io mi dico, ma ci sono persone nuove che vanno oppure sono le stesse persone che ci ritornano? Eh, secondo me ci ritornano. Io no, no. Facciamo un test, Viola, conosci Cristina D'Avena ai Gen Boy? Sì, Viola li conosco, ok, classe 2003, giusto, Viola? Spero che sia andata almeno una volta a vederli o che... No. No, perfetto. Comunque costa 20 euro. Vabbè, 20 euro, mai con 20 euro non ci fai più niente. Ma lo fanno una volta, ogni due per tre. Cioè, qualche a meno di, che ne so io, degli sciopero di ADM. Infatti è vero. Poi c'è questa cosa che mi piaceva il titolo, in realtà, ma non c'entrae perché, vabbè, è una roba dove si fa tunz tunz e si balla, quindi non mi interessa. Ma l'Arcibellezza, sabato alle 17.30, non so neanche perché, c'è la notte dei CBCR. Cresci bene che ripassa. Esatto, esatto. Rocket, quindi, boh, non lo so bene che cosa sa. Spieghiamo bene cos'era il CBCR. Ah, CBCR era una cosa che si diceva negli anni 90 e inizio 2000, che spero che non venga più detto, in realtà, che quando un ragazzo era piccolo o una ragazza era piccola, lo vedevi e dicevi, ah, caspita, CBCR. Cioè, cresci bene che ripassa. Penso fosse una cosa molto, molto femminile, cioè nel senso che voi ragazze dicevate ragazzini, era molto più così che anche meno inquietante, se ci pensate. Sì, esatto. Però, vabbè, lasciamo stare. Poi, una cosa che in realtà c'è da un po' di tempo, dal 14 dicembre, e durerà fino al 10 di marzo, quindi, o voglia, in piazza Beccaria, dove c'è il comando dei vigili, diciamo, più o meno lì, c'è Space Dreamers. È l'incredibile mostra per viaggiare nello spazio e sbarcare su Marte. Ma perché dovrei farlo? In che senso? Esatto. In che senso? Perché non dovresti farlo? Beh, ti immergi. Ma che mi frega, sto bene qua? Sto bene qua? Ma sai che il mondo... Non abbiamo... There is no planet B. Quindi ci serve... Sì, vabbè, ma fa niente. Dalle 11 alle 20 costa solo 17 euro. Vabbè, dai. Ok. Preferisci che ti lascio con una roba un po' sui cartoni animati o su un'attività da fare? No, per cartoni animati abbiamo già parlato di Cristiana Vena, andiamo sulle attività da fare. Ok, quindi ti chiudo con quello dei cartoni animati. No, no, sì, ok, chiudimi con i cartoni animati. Ok. Allora, intanto ti puoi allenare per la Stramilano. Ok. E c'è lo Stramilano Training. Ah, go. Sì, Training. Ah, no, non è quella sotto zero. Cioè, ti prepari. Ok. Domenica alle 9 e un quarto al Parco delle Cave si trovano e vanno. Eh, no, ho da fare. Raga, ma perché? Cioè, chiamatelo con un altro nome, andiamo a correre tutti insieme. Bel nome, però si lavora nel marketing, complimenti. Comunque, se volete fare la Stramilano c'è un gruppo di matti che si sta già organizzando per fare questo. Va bene. Ti lascio con una cosa che magari ti potrebbe piacere. Ok. A me non piace, ti faccio la premessa. Perché come non mi piacciono gli occidentali che vanno in Oriente e si vestono con i vestiti occidentali, non mi piacciono neanche le rievocazioni qua del mondo dell'Occidente, in sostanza. Del mondo dell'Oriente. Dell'Oriente. Ah, ok, va bene. Quindi c'è questo evento che si chiama Da Goldrake a Sailor Moon, anime e astronomia, 12 gennaio, quindi oggi, alle 21, è gradito abbigliamento cosplay, al planetario c'è una serata sull'astronomia, ma dovete vestirvi come Goldrake e Sailor Moon. Ciao, divertitevi. Va bene, no, non ti piace, ma qui è una critica al cosplay proprio. No, no, cioè sì, è una critica al cosplay, mi dispiace, non è proprio nelle mie corde, vi trovo anche abbastanza... Non dirlo, non dirlo, non dirlo, non dirlo, no, no, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto. Va bene, allora, Eribi, grazie mille, noi ci risentiamo venerdì prossimo. Hai nominato gli anni 90, beh, c'era una canzone che spopolava tra quelli come me degli anni 90, da quelli che ascoltavano il grunge, o il grunge, forse è meglio dirlo così, erano in irvana con Smells Like Dance Spirit, Teen Spirit. 883, la regina del celebrità, e chissà se diventerà una celebrità, e noi glielo auguriamo, sicuramente in questi giorni fa parlare il suo video che sta girando su Instagram, insieme a la pagina Musica Bella da Dio, Milano Bella da Dio, stiamo parlando di Céline Natur, buongiorno Céline, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora Céline, ti abbiamo appunto contattato e tu hai accettato il nostro invito, perché proprio in questi giorni sta girando questo video in cui, se andate in giro a chiedere a penso turisti o comunque diciamo studenti fuorisede, molto fuorisede, che cosa non amano, quali artisti non amano del panorama musicale internazionale? Noi parliamo di Milano, parliamo di musica, quindi non potevo che averti ospite qui con noi questa mattina. Come nasce questa idea e chi erano i ragazzi e le ragazze che hai incontrato e cosa ti hanno detto? Sì, no, questa idea è cresciuta nel senso che perché avevo voglia di chiedere delle domande un po' provocative, cioè una domanda che nessuno chiede mai, infatti quando l'ho chiesto un po' di gente hanno messo un po' per capire chi sono gli artisti meno apprezzati di meno, sì, infatti. Beh, effettivamente Céline, di solito si chiede cosa ti piace di più, ma non si chiede cosa ti piace di meno, quindi hai fatto un'ottima domanda. Esatto, no, infatti quindi era proprio un sorpresa infatti quando hanno detto Cagnie, The Weeknd, Drake, che sono artisti enormi e infatti abbiamo anche chiesto a tanti italiani e hanno detto che a loro non piacciono la musica trap italiana, quindi anche quello... Poi ci si chiede come facciano comunque a fare così tante visualizzazioni, forse perché non piacciono, no? Perché non piacciono le guardi per insultare, non lo so, chissà cos'è che ci muove. Esatto, c'è una domanda in cui le persone sono più interessate a sentire, c'è la risposta. È giusto, è giusto, è giusto. Ma insomma, tu sei di Londra, giusto? Sì, sì, sono di Londra e... Come la trovi questa città? Ormai sono tre anni che vivi in questa città, come ti trovi qua a Milano e a sto punto ti devo chiedere anche qual è la cosa che ti piace di meno di questa città a questo punto? Eh, non ti devo chiedere quella che ti piace di più. Certo, vabbè, a Milano mi trovo benissimo perché mi piace la città, mi piace la gente che c'è qua e per me era proprio una new start, new chapter. La cosa che mi piace di meno... Quelli che vengono da Londra a vivere qui, no? Scherzo. No, c'è una cosa che mi piace di meno, forse in comparison c'è la differenza tra Londra e Milano, ovviamente Milano è molto più piccolo, quindi c'è un po' meno da fare, però alla fine trovi sempre qualcosa. Ecco, lo diciamo soprattutto agli amici di Seregno, che a Milano c'è meno da fare rispetto a quello che possono fare a Seregno anche, no, non ne avevo immagini. Ragazzi, ragazzi, tutto è relativo, cioè capito? Se arrivate da Londra, Milano sembra un paesino, capito? Ovvio che se arrivate da casa al Pusterlengo, Milano sembra la grande metropoli, è giusto o no? Ecco, è la relatività, no? Einstein ne ha fatto una vita su questo tema. Selina, tu ti occupi anche di moda, giusto? Quindi insomma, anzi, mi sa che sei venuta qua per quello, oppure è un caso? Sì, ma in realtà mi sono trasferita in Milano dopo che mi sono laureata, perché mi sono laureata peak covid, cioè piena covid, non c'era neanche niente da fare anche a Londra, quindi mi sono trasferita qua per fare un'esperienza tipo exchange e poi mi sono trovata così bene che ho detto, cioè io vorrei lavorare qua, cioè questa è la città della moda, è perfetto. Ecco, settimana che arriva è la settimana impegnativa per te allora a questo punto. Esatto, sì sì, c'è Fashion Week Uomo adesso, è iniziato oggi e no, ci sono tante belle cose che stanno succedendo in questa settimana, quindi ecco, allora visto che noi siamo a questo punto, non so, Selina, io ho questa idea di te che sei un po' cattivella, cioè a questo punto che vai a vedere le cose che c'è, io spero, cioè, senza offesa, nel senso anzi, un pochino, un pizzichino di cattiveria ogni tanto ci vuole nella vita per renderla più simpatica. Questa settimana cominceremo a vedere gente in giro vestita in maniera improponibile però anche, lo sappiamo, vero? Questa cosa è normale quando c'è la Fashion Week di gente che si veste in maniera assurda in giro? Ma è quello, questa è la settimana di farlo, cioè, o questa settimana o mai più. O carnevale, verrebbe da dire, o questo o Halloween, verrebbe da dire. No, ma a me piace, c'è un modo di esprimere chi stesso in questo modo, Fashion Week è proprio quel momento. Ok, Selina, se vogliamo seguire un po' quello che fai, che immagino appunto questa settimana andrà in giro, racconterai, ho visto che tu hai due profili in realtà. Su Instagram, perché fai anche fotografia o qualcosa del genere, giusto? Non ho capito. Certo, certo. Ok, dici un po' allora le coordinate per poterti seguire. Ah, ma su Instagram abbiamo il mio profilo main, che è Selina Nature, e poi abbiamo anche la pagina Musica Bella da Dio, che ho fatto questo video per loro perché siamo un team di amici e persone in generale che abbiamo questa passione per la musica. Ok, interessante tutto, Musica Bella da Dio è molto interessante perché poi dà anche gli appuntamenti alla settimana, dici anche quello che ci sarà, ad esempio vi ricordo che domani al Forum da Sago c'è il concerto di Massimo Pericolo, che contenta, dice anche Viola ci va, c'è il biglietto, quindi deve andarci la nostra redattrice Viola. Sì, è proprio cresciuto come questo progetto che noi abbiamo questa passione per la musica e vogliamo raccontarti un po' dei artisti italiani, cioè quelli emergenti, però in generale anche io voglio provare a prendere questo outlook un po' più internazionale perché alla fine la musica è quello anche. Giusto, giusto, giusto. Poi molto bella, per quanto riguarda Milano, avete fatto una playlist, ho visto che sono gli artisti emergenti di Milano, una playlist che ormai è aggiornata già dall'inizio del 2023, quindi più di un anno questa playlist e continuate ad aggiornarla, quindi grazie anzi per farci conoscere un po' di artisti che magari non possiamo tutti conoscere, insomma, e magari chissà passarle anche in radio. Sì, sì, no, ma infatti abbiamo, nel nostro team abbiamo Silvio che è molto appassionato della musica emergente di Milano, quindi grazie a lui abbiamo fatto questo playlist anche. Perfetto, allora Selin, prima di salutarti, ovviamente la domanda è di Rito, anche per te. Qual è l'artista che non ti piace? L'artista che non mi piace? Arianna Grande, devo dire. Come mai, povera Arianna, cosa ti ha fatto? No, c'è, fa delle canzoni belle, però è un po', è un po' Barbie Girl per me. Ecco, l'avevo detto, ecco a voi la nostra black girl, che Selin diventa la bad girl di questa trasmissione. Selin, grazie mille davvero di essere collegata con noi, seguitela, allora abbiamo detto Selin Natur, scritto Nator, cercatela su Instagram, seguitela e seguite anche i consigli di musica che dà. Grazie mille, grazie a voi. E di moda, quindi mi ricordo, io aspetto grandi foto da questa settimana, Selin, io metto tra i preferiti il tuo profilo perché voglio seguire grandi evoluzioni della Fashion Week. Grazie. E allora ovviamente Selin ti dedico la prossima canzone che avrai già capito chi sarà e ovviamente, ma è stato subito, è stato velocissimo a trovarla in database, è ovviamente Arianna Grande con Seven Rings. Ciao Selin, grazie mille di essere con noi. Grazie. E a voi invece che magari vi piace, Arianna Grande con Seven Rings. E questa è la Arianna Grande con Seven Rings che vogliamo dedicare appunto a Selin che ha detto che niente, è l'artista che non gli piace. A voi invece cosa non vi piace? 331-7853-555. Questo è il nostro numero di Whatsapp, potete scrivercelo qui davanti, grazie a Marco che ci scrive il buongiorno e dice complimenti Selin, ti seguirò, è molto interessante vedere Milano dagli occhi di qualcuno che è arrivato da poco a Milano. Grazie Marco per il tuo Whatsapp al 331-7853-555. Andiamo un attimo parlando di notizie perché è arrivata la notizia di ieri appunto che verranno riaperte le indagini sui killer di Fausto e Iaio perché il sindaco Sala aveva fatto una chiesta tramite una mozione in consiglio comunale, il sindaco Sala aveva chiesto alla procura la riapertura del caso e infatti viene riaperto. Il delitto di 45 anni fa era rimasto senza colpevoli, anzi è rimasto senza colpevoli. E quindi appunto il testo presentato da Pantaleo del PD a fine maggio, i milanesi attendono giustizia. Era il 18 marzo del 78 quando Fausto e Iaio appunto furono freddati per strada da dei proiettili esplosi nei pressi del centro sociale Leoncavallo a Milano da un commando di killer senza nome. Ovviamente c'è tutto il mondo di quegli anni, della fine degli anni 70, prima degli anni 80, della politica molto estremista che militava in quelle città, grosse città come ad esempio Milano, quindi insomma non era una... ahimè, ogni tanto i colpi partivano, gli spari partivano e in questo caso appunto Fausto e Iaio rimasero colpiti quella sera freddati a pochi metri dal Leoncavallo in quel maledetto 18 marzo del 78. Da anni si chiede giustizia e lo scorso 29 maggio il consiglio comunale approvò una mozione dell'ordine del giorno, scusate, presentata dal consigliere del PD Pantaleo. Il sindaco la portò poi in procura, diciamo il sindaco l'ha giunta il comune di Milano e quindi a questo punto la procura ha detto sì, riapriamo le indagini sul caso di... sui killer, scusate, di Fausto e Iaio. Quindi insomma questo è quello che Sala sta richiedendo a gran voce. Adesso sentiremo come andrà avanti e come si approfondirà poi questa situazione. Il sindaco Sala chiede a gran voce appunto la riapertura del caso e dice la procura riapra le indagini. Questo è quello che sta richiedendo. Vedremo come risponderà la procura di Milano e vedremo appunto se dopo così tanti anni, dal 78 oggi dopo più di 45 anni appunto ci sia una possibilità di vedere giustizia su un caso che ancora tanto fa male alla città di Milano. Questa è la nostra Milano, era la Milano di un tempo, lo era Milano ancora adesso, chissà, sicuramente. Andiamo avanti invece con un po' di musica, parliamo di Brash e dei Pinguini Tattici con Nightmares. E non è un King Sides, ma uno studio normale, quello di Good Morning Milano. Ma c'è spazio per tutti voi, come sempre qui sono le 7.53 minuti, ma fra poco andiamo in pausa, anzi fra poco mi raccomando rimettete collegati con noi perché c'è il giornale radio, le notizie da tutta Italia, le notizie del giornale radio nazionale, ma poi torniamo qua a raccontarvi nella nostra città, avremo altri ospiti questa mattina, avremo Michele Roche, un regista che ha fatto un documentario che si chiama Benvenuti in Galera, ma non parla solo della Galera, parla proprio di In Galera che è un ristorante che c'è in quella del carcere di Bollate, ma poi ovviamente parla anche della situazione dei penitenziari che sappiamo essere una situazione abbastanza particolare e in questo momento un po' al collasso. Ricordiamo il numero più alto mai raggiunto di detenuti, le carceri stanno esplodendo, soprattutto la Lombardia è quella con più detenuti sul suo territorio e anche quindi più sovraffollamento delle carceri lombarde. Tutto questo lo vedremo, lo ascolteremo e l'avremo qui in diretta nella seconda parte di trasmissione, la seconda ora di trasmissione che inizia appunto fra poco, subito dopo il giornale radio, ma soprattutto subito dopo ancora un po' di musica 3317853555. Scriveteci, ci risentiamo fra poco, sempre qua in diretta su Crystal Radio. Questo è Good Morning Milano e andiamo avanti con Alfa, con bellissimissimissimissimissima... E va avanti così, ma noi dobbiamo entrare pian pianino, lentamente e raccontarvi quello che succede qui. Ebbene sì, era Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, Turn Around, tornata tra parentesi famosissima sui social per via di quel cane che con Alexa che gli canta questa canzone e lui continua a girare, non so se l'avete visto, fa molto ridere. La cassa dice Turn Around e il cane gira. Tra me c'è una versione col cane e col tutu anche, vabbè. Povera bestia, povera bestia. Comunque come state? Cosa state facendo? Ditecelo 3317853555. Con Selina prima abbiamo parlato di musica che non ci piace e tutto e sono arrivate un po' di di Whatsapp, c'è a chi non piace dei gabue, c'è a chi non piace baglioni, ma l'interessante è quello che ci scrive Teresa che ci dice che no, io non lo dirò mai in pubblico, sennò vengo linciata. Tra parentesi. Vasco, chiusa parentesi. L'ha detto, l'ha detto, meno male che non c'è il nostro Masieri, sennò qui finiva a scatafascio, a schifio finiva. Però insomma, vabbè, ma ragazzi sono gusti, sono gusti. Cioè tutti quanti, lo ripeto per l'ennesima volta, lauretta mia, Laura Pausini. Io ad esempio Laura Pausini non riesco ad ascoltare le sue canzoni, non mi piacciono le canzoni di Laura Pausini, però faccio il twist, cioè faccio il salto più lungo della gamma, o meglio, faccio il salto verso la persona e non verso l'artista, cioè la vorrei come migliore amica. A me sta simpaticista, mi piace tantissimo Laura Pausini come persona, vorrei uscirci, ripeto, sapete, io non bevo alcolici, ci esco anche a bere la birra insieme a lei, se volete, ma non ascoltiamo le sue canzoni, cioè Laura te l'ho già detto, uniamo fuori, facciamo, decidi tu dove andare, possiamo andare anche a karaoke se vuoi, però cantiamo le canzoni di altri, mi spiace, cantiamo Queen, cantiamo Vasco, se ti va, però non cantiamo le canzoni da Pausini, ognuno ce l'hai sua, non è che deve per forza... Pensate, c'è chi piace Massimo Pericolo, ad esempio, cioè, che domani ti vedo, Viola, perché la telecamera è puntata addosso, quindi ti vedo. No, perché ripetiamo, ricordiamo a chi si è messo in ascolto solo adesso, che domani sera al Forum da Sago ci sarà il concerto di Massimo Pericolo, Massimo Pericolo che è uno degli artisti preferiti della nostra Viola che sta in regia e quindi, insomma, la prendiamo in giro, ma più che altro perché siamo dei vecchi noi che non sappiamo chi era Massimo Pericolo e mica peraltro, cioè, solo quello, nel senso che invece giustamente fa bene, fa bene andare Viola al concerto di Massimo Pericolo. Se invece siete un po' più vecchiotti come me questa sera invece al Teatro Dal Verme c'è Roberto Vecchioni, quindi insomma il maestro Vecchioni, ricordiamo che quando diciamo maestro con Vecchioni è anche una doppia valenza perché era anche professore di scuola, quindi proprio un maestro, non possiamo dire altro. Alle 21, questa sera, Roberto Vecchioni al Teatro Dal Verme. Tanti concerti appunto che stanno occupando le settimane milanesi, i soliti luoghi e oltre, non c'è solo il vari palazzetti, ci sono anche appunto i teatri, come ad esempio in questo caso il Teatro Dal Verme. Ricordiamo anche che ieri sera invece c'è stata la cantata anarchica in Piazza del Duomo per ricordare i 25 anni della scomparsa di Fabrizio De Andrè, quindi una città, sempre lo sappiamo, in musica e in teatro e per questo vi ricordo anche di seguirci il giovedì quando siamo qua con Tamara Malleo per parlare di tutto quello che succede nei teatri milanesi e di darci anche, Tamara ci porta sempre tre consigli che possono essere interessanti per andare appunto al teatro e farlo diventare, come dice lei e come ci piace anche a noi sottolineare, una abitudine, l'abitudine del teatro. E comunque l'abbiamo chiamato, l'abbiamo parlato, abbiamo detto che questa sera, anzi scusate domani sera c'è Massimo Pericolo in concerto al Forum e allora andiamo a ascoltarci Massimo Pericolo con le cose cambiano. E questo era Massimo Pericolo che ricordiamo ancora una volta, manco mi avesse arrivato un biglietto, domani è al Forum da Sago, a che ora Viola? Alle 21? Ha detto di arrivare per le 6 dice, lui l'ha detto di arrivare? Ah nelle stories ha detto venite, perché inizia alle 8, no, 8 e un quarto, 9 e un quarto, scusate, inizia 9, 9 e un quarto, ma ha detto venite prima perché siete tantissimi, vabbè, insomma io arriverò alle 21 e 18 così almeno, tutti dentro, arrivo all'ultimo, metto in fondo, appoggiato alla balaustra, se ne mai siete al Forum, il posto migliore è in fondo appoggiato alla balaustra, oppure se riuscite appoggiate alla balaustra del mixer che c'è in mezzo alla sala, quella è una delle cose più comode, però io mi distraggo perché sto a guardare il mixer e non seguo il concerto. Comunque Milano, Milano città, abbiamo sentito prima anche un po' di problemi di traffico, sappiamo quanti problemi danno, quanti problemi dà la mobilità in questa città, che sia trasporto pubblico, che sia privato, che sia biciclette, auto, moto, così, Paolo Romano ha messo un po' di dati interessanti sulla mobilità e la soluzione ciclabile che si potrebbero adottare nella nostra città. I dati che ne vengono fuori sono interessanti perché la Pianura Padana è una delle aree più inquinate d'Italia, secondo appunto l'Agenzia Europea dell'Ambiente, con ovviamente conseguenti rischi significativi per tutti i cittadini. Pensate che i trasporti generano il 54% del biossido di azoto e il 20% di tutte le polveri sottili presenti in Lombardia. Il dato, pensate che sale al 70% di quanto riguarda il biossido di azoto nelle aree urbane e al 39% per quanto riguarda le polveri sottili. Qui poi dopo ovviamente Paolo Romano lancia una stoccata alla regione dicendo che la mobilità sostenibile dovrebbe essere una priorità regionale e invece dice che il servizio di Trenord è pessimo e anzi ancora critiche sul fatto che sia stato riconfermato oltretutto dando più soldi ancora a Trenord e oltretutto dicendo tagliando 30 milioni di euro di investimenti sulla ciclabilità. Poi fanno delle richieste dagli scrani dell'opposizione appunto chiedono di rendere gratuita la possibilità di portare le biciclette sui treni di Trenord, di ripristinare i fondi tagliati, di fare un nuovo fondo per l'intermobilità bicitreno e biciauto con delle velo stazioni, dello sharing nei parcheggi di interscambio nelle stazioni e poi di stanziare risorse per nuove ciclabili urbane e sicure. Queste sono poi le richieste che fa Paolo Romano sui suoi social parlando appunto di mobilità e del grosso problema che è la mobilità urbana e tutto quello che poi anche ne consegue. Insomma sappiamo essere complicato girarsi in questa città, sappiamo essere complicato anche perché tutte le mattine noi ci colleghiamo con Luce Verde e tutte le mattine ci viene raccontato insomma uno scenario abbastanza complicato. Seguiremo appunto questa situazione, ricordiamo anche che da qualche giorno è tornata alta la voce dei vari movimenti cittadini per chiedere una Milano Città a Trenta, la famosa Milano Città a Trenta viene richiesta a gran voce adesso e infatti mercoledì scorso c'è stato anche un presidio importante e molto partecipato. Insomma le soluzioni esistono, bisogna solo adottarle. Pensate che a Barcellona, sta girando in questi giorni grazie a Will Media, sta girando questa notizia sui social, pensate che hanno iniziato nel 2019 una conversione delle varie strade interni ai blocchi. Cosa sono i blocchi? Dovete immaginare che Barcellona è un po' come Torino, ha quelle strade perpendicolari l'una tra l'altra, facendo quindi dei quadrati fatti di case. Ecco, ogni nove quadrati viene fatto una sorta di super blocco dove le strade interne a quel quadrato vengono chiuse al traffico, quindi solo le strade intorno a quel rettangolo invece vengono lasciate alla mobilità classica come la conosciamo, quindi promiscua con macchine, moto, biciclette e pedonalizzazioni. Invece l'interno viene semplicemente portato a pedonalizzazione, zone a 20 all'ora per i residenti che possono entrare semplicemente per andare nei propri box, nei propri garage e tanto, tanto spazio, soprattutto per i pedoni, perché crediamo che insomma siamo sempre qua a parlare di biciclette, siamo qui a parlare di sharing, di trasporto pubblico, ma attenzione che spesso e volentieri, e soprattutto nell'ottica di una città magari che arriva a essere la famosa città a 15 minuti che spesso e volentieri se da questa sala ci racconta, beh, basterebbe andare a piedi e molti di noi lo possono fare. Poi ovvio che bisogna creare anche le possibilità a chi a piedi non può andarci, a chi non può andare in bicicletta, ma ripetiamo come sempre, scusate, su questo sono molto transciana, la città si può vivere tranquillamente a piedi senza grandissimi problemi. E adesso andiamo avanti con la musica e appena torniamo adesso, piccola pausa con la pubblicità e poi torniamo con un ospite perché abbiamo un regista, parliamo di una realtà che veramente è molto interessante, diciamo che vi portiamo in galera, questo è quello che ci promette, anzi anche questo regista, sto parlando di Michele vero tra poco qui su Crystal Radio, tra poco qui a Good Morning Milano e adesso Harry Smith, I don't wanna miss a think. Bye bye Marshmallow, 8 e 30 minuti spaccate per la ultima mezz'ora di trasmissione di Good Morning Milano qui in diretta su Crystal Radio. Vi l'avevo detto, berlarremo di cinema, parliamo di carceri, parliamo di come raccontare le due cose e farle bene si può fare solo grazie a un regista e quindi diamo il benvenuto a Michele Ro, buongiorno Michele. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora Michele Ro, benvenuti in galera, questo è il nome del film che ieri sera avete presentato in anteprima al cinema Arlecchino di Milano, il titolo è abbastanza eloquente, però in realtà c'ha un gioco di parole dentro, diciamo, perché non è quello che uno può pensare e basta, giusto? Sì, assolutamente. Il titolo, adesso non ve lo spoilero perché si spiegherà poi nel documentario, ma la finalità del benvenuti in galera è proprio invitare la gente ad avvicinarsi al tema della carcerazione, non avere paura, ma imparare a conoscerlo e a parlarne e ad avvicinarsi e tutto parte dal ristorante In Galera che è stato il primo ristorante al mondo aperto dentro un carcere, nel senso adesso ne hanno aperti altri, ma è stato il primo. Ricordiamo essere a Bollate, cioè quindi un'eccellenza milanese nel carcere di Bollate, il primo ristorante al mondo aperto in un penitenziario. Sì, aperto in un penitenziario, ma soprattutto appunto la peculiarità è gestito da detenuti, sotto la supervisione chiaramente delle ideatrici del progetto che è esterna, Silvia Polleri, ma interamente gestito da detenuti. Il tema è fondamentale anche in questo momento perché gli ultimi dati danno le carceri italiane veramente al collasso, siamo più di 60 mila i detenuti in questo momento in Italia con una capienza massima di 48, se non mi ricordo male, questi erano i numeri più o meno, di cui questi più di 8.730, più o meno, questi erano i dati a novembre del 2023, sono proprio nelle carceri lombarde che potrebbero al massimo contenere sulle 6.100 persone. Anche questo qui è un tema comunque molto importante. Secondo te però perché questo tema viene poco raccontato? E lo chiedo a uno che l'ha raccontato, quindi è un paradosso questo. In realtà quando si parla di carcere purtroppo ci sono veramente tanti aspetti di cui si dovrebbe parlare e che rimeriterebbero un film a sé, nel senso che c'è il tema del sovraffollamento che citavi tu, c'è il tema purtroppo dei suicidi, sia dei carcerati ma anche della polizia petitenziaria, che è una cosa che la gente conosce poco, c'è il tema del carcere femminile. Purtroppo ci sono veramente tanti aspetti e tante cose. Perché non si affrontano, mi chiedevi, perché il carcere fa paura? Cioè, e te lo dice uno che per carità questo tema lo conosceva, insomma, mi è sempre stato caro, ma poi quando vai di vicino, quando conosci le persone, comunque il carcere spaventa, spaventa l'istituzione di per sé e spaventa anche le persone dentro. Quindi si preferisce un po', come dire, quelle cose che nascondi sotto una coperta e dici vabbè, ok, sta lì, non me ne occupo. E Michele, come si fa allora a raccontarlo senza spaventarsi e dall'altra parte anche senza impietosirsi, senza fare sempre quel pietismo inutile che a volte invece viene fatto in certe circostanze, senza fare i giustizieri dall'altra parte, senza fare i giustizialisti, cioè non è un tema semplice, no? No, allora, il tema è molto complesso e io ci ho messo più di tre anni a fare questo e quindi, insomma, questo spiega anche proprio la complessità del tema e anche perché non dobbiamo ricordarci che, insomma, c'è sempre da un'altra parte, ci sono i detenuti, ma dall'altra parte ci sono anche sempre delle vittime, quindi ci vuole sempre un gran rispetto anche rispetto a questo. Io, dal mio punto di vista, lo puoi raccontare in maniera diversa, io ho fatto una scelta dopo essere stato lì parecchio prima di iniziare a filmare, è di ho voluto provare a cambiare il punto di vista, cioè ho provato a raccontare questa storia dal punto di vista di chi sta dentro, dei ragazzi, quindi stando vicino in un qualche modo a loro, senza pietismi, senza soluzioni, senza chiamiamole come vogliamo, ma ho provato a mettermi di fianco a loro, nel senso che in genere si guardano sempre, invece ho provato ad ascoltare le loro voci, cioè che cosa si prova ad essere un detenuto, che cosa provi tu quando esci, quando cerchi lavoro, quando stai cercando di rifarti una vita. Ecco, ho provato semplicemente a cambiare il punto di vista, questo perché l'ho sentito io necessario quando ho iniziato a lavorare a raccontare questo progetto, poi ci sono mille modi, ho fatto dei film bellissimi sul carcere, appunto. Chiarissimo. Allora, io ti chiedo di rimanere ancora qui un attimo con noi, se non devi scappare, perché ci ascoltiamo i Tiro Mancini insieme a Carmen Consoli e poi ci racconti un po' invece che strada farà questo documentario, come è stata la realizzazione e possiamo ancora vederlo all'arlecchino, quindi insomma rimanete collegati con noi che vi diciamo tutte le coordinate per andare a vedere. Benvenuti in galera di Michele Ro. L'odore del mare, Tiro Mancini insieme a Carmen Consoli, 8 e 39, venerdì 12 gennaio, questa è Crystal Radio, io sono Fabio Ranfi e state ascoltando Good Morning Milano. Allora, le cose le sapete adesso. Chi abbiamo collegamento con noi, invece Michele Ro, regista, regista insomma che ha fatto tanti film e cortometraggi, regista premiato in varie situazioni, ma questa volta Michele dobbiamo parlare appunto del tuo nuova, la tua nuova opera che è Benvenuti in galera, presentato appunto ieri sera al cinema Arlecchino. A proposito, come e quando possiamo vederlo, fino a quando possiamo vederlo in Arlecchino? Dacci un po' le coordinate anche tu. Allora, l'idea è un po' di tenere il film documentario, dargli la possibilità di far passare il passaparola, quindi di tenerlo su un po' di settimane. Quello che è sicuro adesso che voi potrete trovarlo fino a mercoledì 17 gennaio intanto, perché le programmazioni delle sale sono settimanali e sul sito del cinema Arlecchino trovate tutti gli orari, perché ovviamente avrà diverse proiezioni all'interno della giornata. Poi l'idea è che ci stiamo attivando con altre sale in tutta Italia, perché chiaramente il tema interessa molto e successivamente poi vorrà portarlo nelle carceri e nelle scuole, perché tornando al discorso di prima è un tema molto importante di cui è importante che se ne parli e quindi non si abbia paura a parlarne. Per questo secondo me anche andare nelle scuole, le teste che matureranno nel futuro, è molto importante. Qual è stato l'aspetto della produzione di questo film che più ti ha colpito, le storie che hai raccontato? Cosa che ti ha colpito di più nella realizzazione di questo film? Allora, la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata inizialmente quando abbiamo iniziato le riprese, abbiamo fatto diverse tranche di riprese, ovviamente in tre anni, anche perché poi c'è stato il Covid e quindi abbiamo dovuto fermarci e questo però mi ha dato la possibilità di vedere delle storie che cambiavano, perché io seguivo questi ragazzi, alcuni di loro sono usciti, quindi li ho potuti seguire fuori. Ma la cosa che mi ha maggiormente colpito all'inizio è stato proprio questo senso, quando giravo dentro il carcere, quindi dentro la cucina interna, la sera uscire, tornare a casa e lasciare questi ragazzi lì, cioè come detto, questo senso di ok io me ne vado e loro rimango lì, comunque è un luogo che si fa sentire proprio a livello di percezione nel carcere, quindi lì sai il tempo sembra tutto fermo, quindi innanzitutto è stato un po' a livello emozionale questo, questo sdoppiarsi un po' del tempo, quando io la sera me ne andavo via, perché poi chiaramente con i ragazzi si crea un rapporto, perché li vedi tutti i giorni e giri con loro. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è sentivo una grande responsabilità, nel senso che quando racconti una storia di questo tipo e a che fare con un'umanità di questo tipo, perché poi al centro di questo film ci sono le storie di questi ragazzi, degli esseri umani e anche della signora, ecco sentivo una grossa responsabilità per trovare il giusto registro con cui raccontare questo. Michele ti faccio una domanda, forse da un milione di dollari, non lo so, però come si fa a non dividere il mondo in buoni e cattivi quando si è lì? Come fai a non cadere in quella trappola? Oppure ci cadi e poi dopo in qualche maniera ne vieni fuori? Beh, è una domanda da un milione di dollari, però io... Cioè ricordiamoci che tu hai contato storia di ragazzi a cui ti sei affezionato, a cui adesso vuoi bene tutto, che però insomma se sono lì dentro è perché qualcosa hanno combinato, diciamo, no? Chi più chi meno, ma comunque insomma la giustizia ha deciso che lì era il luogo dove dovevano stare per un periodo. Non essere facile comunque all'inizio e poi anche alla fine, nel senso, a gestire questa cosa e appunto siamo abituati a dividere il mondo in bianchi, neri, gialli, rossi, buoni e cattivi, no? Certo, ma guarda, in realtà sì, assolutamente vero. Il tema è che io sono partito da un presupposto che poi il presupposto parte da chi ha fatto questo progetto, cioè il concetto è trattare queste persone come degli esseri umani, cioè è giusto che loro siano lì perché hanno sbagliato, però è sbagliato che queste persone non vengano trattate con dignità, gli venga elevata la dignità, ok? E spesso è un problema che c'è dentro le carceri, come vengono trattate queste persone. Quindi, come dire, raccontare la complessità, non farne degli eroi perché chiaramente nessuno ha l'interesse di far qualcosa, però ascoltarli, sentire, provare a vedere il loro, ascoltare il loro sentire. Io non, in tutto il documentario non si parla mai di ciò che hanno fatto, perché non mi interessa, cioè non era quello l'oggetto, si parla del loro sentire, ok? E tutti loro sanno, tutti loro credetemi sanno, che hanno sbagliato, che hanno fatto, come dire, che hanno perso, diciamo, la retta via, ma stanno cercando di recuperarla. Però, chiaramente, raccontare la complessità è importante, le sfumature, e quindi, nonostante poi il documentario è in bianco e nero, però in bianco e nero con tante sfumature. Chiarissimo. Allora, non possiamo neanche dire più le sfumature di grigio, perché ormai diventa un'altra roba, con l'altro film non c'entra niente, quindi ci hanno rubato anche quello, Michele, non possiamo neanche dire è un film fatto a sfumature di grigio, non possiamo, non possiamo dirlo, ce l'hanno rubato ormai, non possiamo più dire neanche quello. Michele, dacci quindi, ricordaci bene, fino a quando al Cinema Arlecchino e dove possiamo seguire anche tutto il tuo operato? Allora, guarda, fino al Cinema Arlecchino, sicuramente fino a settimana prossima, fino al 17 gennaio, ma rimarrà su per più settimane, quindi tenete d'occhio la programmazione del Cinema Arlecchino e soprattutto è una programmazione fatta ad hoc per sia le famiglie che vengono, io lo potrei trovare la sera, il pomeriggio, insomma, per i liberi professionisti, insomma, diciamo che la Cineteca fa una programmazione veramente disponibile a tutti. Poi saremo in tutta Italia, potete vedere, adesso a breve ci sarà un sito che si chiama www.benvenutingalera.it, dove ci sarà, appunto, si annunceranno le proiezioni, ma soprattutto per chi fosse interessato a volerlo proiettare, ci potete scrivere e si organizzano proiezioni ad hoc, sempre appunto nell'idea di mostrare il film, farlo girare, mostrare il film a più persone. Chiarissimo, Michele. Allora, dimmi, dimmi, dimmi. No, dico, e poi ci auguriamo una cosa che io mi auguro molto, perché il film, scusate, il ristorante appena aperto, diciamo, è stato un caso perché il New York Times l'ha scoperto, gli ha dedicato una pagina grossa, quindi è un progetto che in America, di cui se ne è parlato molto, io sto cercando di portare all'estero, perché comunque, come dicevi tu prima, il tema della carcerazione è universale, cioè, alla fine siamo bianchi, neri, rossi, blu, parliamo lingue diverse, ma il carcere è ovunque e ha ovunque grossissimi problemi, quindi io mi auguro di poterlo portare soprattutto all'estero. Bene, allora noi te lo auguriamo anche noi, ci auguriamo di sentire il tuo nome storpiato in qualsiasi parte del mondo, perché almeno vuol dire che ce l'avrai fatta, dai. Grazie mille Michele, complimenti ancora per il tuo lavoro e un saluto a tutti i tuoi collaboratori, a coloro che appunto anche compaiono. Io vi ringrazio, complimenti a voi e al vostro lavoro. Grazie mille, grazie mille a Michele Ro, seguitelo appunto, Michele Ro, scritto con l'H, è come la paese uguale, Michele Ro, seguitelo e andate all'Arlecchino a vedere, benvenuti in galera. A dopo noi, ci sentiamo fra poco, ciao, grazie Michele. Ciao, ciao. Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing About The Tears. Insomma, questa è la musica di Crystal Radio, la musica che vi fa compagnia tutte le mattine qui a Good Morning Milano. Siamo quasi in chiusura, stiamo andando verso la fine della nostra puntata, ma insomma anche oggi tanti appuntamenti che potete riascoltare e rivedere tutti quanti. Sì, perché abbiamo ovviamente, potete ascoltarci sempre in diretta, sul Dub Plus, sulla vostra autoradio della macchina, sul web con il sito internetcrystalradio.it, ma anche con le app di iOS o Android. Oppure potete andare su Milano News e cercare Good Morning Milano e andare a vedere tutto quello e riascoltare tutto quello che è successo nella nostra mattinata. a tutti i vari interventi, li trovate anche poi man mano durante la giornata, in versione audio e video, sì, su Spotify, nel canale appunto di Good Morning Milano. Cercate Good Morning Milano su Spotify e troverete tutto il nostro mondo. E sì, perché noi ve lo raccontiamo tutti i giorni, quindi siamo qua a volervi raccontare tutto quello che succede a Milano. Grazie a tutti.